È un premio che ci deve rendere sicuramente orgogliosi, credo che debba rendere orgogliosi anche tutti i comuni soci, perché è un premio che viene assegnato sulla base di una valutazione e di una competizione tra le prime 100 aziende italiane, quindi le prime 100 utility nazionali, ed è un premio che ci è stato assegnato per quanto riguarda il settore della sostenibilità. È il secondo consecutivo proprio sulla tematica della sostenibilità, a conferma che la nostra visione della sostenibilità, dell'economia circolare, è ormai insita e impremiata in tutte le attività aziendali. Questo lo dico perché a volte si legge sulla stampa i nostri detrattori, sono quelli che dicono che non facciamo bene all'ambiente, non facciamo di qua, non facciamo di là. Credo che questi premi invece vadano a certificare un contesto invece di un'azienda che è particolarmente attenta al territorio, all'ambiente e alla sua sostenibilità. Questo premio ci rende molto orgogliosi, credo che il merito sia di tutti quelli che lavorano in azienda e quindi non del sottoscritto, cosa che ho fatto con una lettera puntuale, quindi ho ringraziato tutti. E quindi è una cosa importante anche perché nella stessa valutazione finale che vedeva cinque aziende concorrenti, siamo risultati prima rispetto anche dei top player, quindi importanti come A2A, piuttosto che Enel, piuttosto che Veritas. Quindi nonostante le nostre piccole dimensioni ce la siamo accavata bene, quindi credo che dobbiamo essere orgogliosi, non come punto d'arrivo ma come ulteriore spinta per fare ancora meglio le cose che facciamo. Io dico sempre, visto e considerato che facciamo cose che non sempre vengono valutate nel modo corretto ma che sono fondamentali per la qualità e la competitività di un territorio. Servizi come il ciclo idrico integrato, quindi l'approvvigionamento, la distribuzione dell'acqua, fognatura e depurazione. Pensiamo solo che con gli investimenti che abbiamo fatto nella città di Pesaro di oltre 25 milioni siamo usciti dall'infrazione comunitaria. Abbiamo inaugurato Borgeria qualche mese fa sul tutto il tema dei rifiuti e sul tema per esempio anche energetico, la riqualificazione di tutto l'impianto illuminante di Pesaro, quindi con riduzione di consumo di energia e quant'altro vanno nella direzione di una società, di un'azienda che si adopera e supporta le amministrazioni comunali nel riprogettare quello che sono i nuovi paesi, le nuove città alla luce anche di quello che è il nuovo contesto del cambiamento climatico piuttosto che di quelli che sono i suoi effetti.